Si è conclusa in queste ore in provincia l'operazione della guada di finanza e il comando provinciale denominata Bede Blackfest, bel bilino delle fiamme gelle, residence, case vacanze, country house selezionate tra le oltre 400 presenti nei comuni di Modiche Scicli che hanno evasi il fisco. Già in una prima fase erano state individuate ben 39 strutture abusive e, costatato, un'evasione fiscale di oltre 600.000 euro. Da un'altra Cerni tenolte, su 23 strutture controllate, 13 presentavano significative irregolarità di varia natura e questo grazie all'incrocio dei dati bancari verificati con la comparazione della copiosa documentazione acquisita presso i rispettivi comuni di appartenenza. In totale sono state quindi controllate 23 strutture ricettive di queste sanzionati titolari di 13 per aver omesso la presentazione delle certificazioni di iniziatività al comune e per cui rischiano adesso molte da un minimo di 516 euro ad un massimo di 3.000 euro. Conseguenze ancora più gravi anche per 12 titolari che sono stati denunciati per non aver effettuato la comunicazione alla questura di Ragusa dei clienti alloggiati. Complessivamente il danno erariale ammonta più di un milione di euro.